Un turno infrasettimanale scoppiettante in Serie D che ha portato tre squadre abruzzesi in vetta al girone F, ma andiamo con ordine. Alla Gran Sasso d'Italia si giocava il derby tra l'Aquila e Notaresco. È finita 2-1 per i padroni di casa, ma il rammarico in casa terramana è grande perché i ragazzi di Evangelisti hanno giocato complessivamente meglio, soprattutto nel primo tempo. I gol nella ripresa. Vantaggio Notaresco su calcio di rigore trasformato da Rigoni. E' il venticinquesimo. L'Aquila si scuote e si getta rabbiosamente in avanti. A questo punto sale in cattedra Banegas, che prima pareggia la sua maniera, calciando una punizione che ha lasciato di sasso il portiere del Notaresco. E quando tutto lasciava presagire il pari, in chiusura di partita, ha fornito l'assist decisivo a Keita, facendo esplodere di gioia lo stadio. Una vittoria acciuffata in estremis, ma che issa l'Aquila al primo posto. Primato raggiunto anche dal Chieti, che giocava in trasferta a fermo. I Neroverdi, in caso di successo, sarebbero addirittura saliti al primo posto solitario. E' arrivato un pari, il primo esterno, dopo tre vittorie, che comunque dà continuità dei risultati. L'Areti nel primo tempo. Vantaggio Neroverde con Don Sa, inserito da Ignoffo dal primo minuto nell'undici di partenza. Pochi minuti dopo, però, la fermana acciuffa il pari con Lomangino. Il giocatore approfitta di un traversone che sorprende la difesa Neroverde. Il Chieti rischia anche di incassare il raddoppio, ma la palla di Sardo colpisce la traversa. Nella ripresa più Chieti che fermana, ma il risultato non si sblocca. Continua a volare e aggancia il vertice del girone anche il Teramo. La squadra di Pomante, forse attualmente, è la più in forma del campionato. Il successo per un a zero sulla Vigor Senigallia è il settimo risultato utile consecutivo. Il gol partita in avvio con Galesio al quinto centro stagionale. Infine, la sorpresissima della giornata, il successo della Vezzano al Riviera delle Palme contro la San Benedettese. Tre punti inattesima vitali per i marsicani, che sono sempre ultimi ma in coabitazione, insieme a Notaresco, Fermana e Castelfidardo. Il gol partita all'alba del match. Cross di Luciani. Moretti, nel tentativo di rinviare, sbaglia l'intervento e inganna il suo portiere. La Samba ci prova in tutti i modi, ma il fortino marsicano resiste. E domenica si torna in campo, in un campionato che sta diventando sempre più avvincente ed equilibrato.